ciao buonasera ciao ragazzi come state? io vado a cena no Beatrice tu stai qua che cazzo fai? tu Beatrice stai qua che cazzo fai Beatrice? che cazzo fai Beatrice? pov mi chiamo Beatrice non è vero che chiami Carlotta credo ma domanda Beatrice è andata a cena totta perché sta andando verso la sua finestra? è perché vuole cenare all'inferno non è vero che hai finito la pulizia robot di verda hai da fare lo studio torna qua robot non hai pulito lo studio torna qui pulizia completa non vai al doc di ricarica poverino è una settimana che non passa più dallo studio arriva alla porta dello studio e fa pulizia completata si gira e se ne va fa bene ma magari te l'ha pulito altre volte c'era pulito Bim no no perché alle 7 di sera passa e quindi lui arriva qui e arriva allo studio e fa finito not mine guys ma no perché magari si affaccia alla porta e fa ah no sta lavorando fammi uscire così non lo disturbo che carino ah è perché dice le altre volte gli davo calci dicendo vai via si esatto ma perché è stupido c'è un angolo in cui vai e si incastra ho dovuto mettere un gioco di maia in mezzo perché sennò va lì e si incastra e inizia a ruterare su se stesso no wow spin però ricorda che devi essere gentile con i robot perché il giorno in cui ci conquisteranno si ricorderanno di chi è stato gentile con loro ahah totta secondo te col mio stile di vita riesco ad arrivare a quel giorno io guarda che ho dei piani molto più in là wow beh era tutto ok hai avuto un momento triste sono un amido di Fall Guys adesso oh no oh no perché mi hai ricordato quel gioco di merda madonna santa giochiamo a Fall Guys per 7 ore? giochiamo a Fall Guys stasera? va bene ragazzi il maratona di Fall Guys fino alla live di domani andata fatta io domani ho un esame il maratona di Fall Guys fino all'esame di Totta no io domani ho un esame se volete vi posso possiamo fare gli allenamenti per il mio esame ripasso vai quanto fa 6 per 2? no no è spagnolo hola mi nombrè è riccardo speravo dicessi quanto fa 6 per 2 in spagnolo esto è roco esto è blanco no Leo no Leo ragazzi io invece a me non lo so come si dice effettivamente dovrò dirlo dovrò dirlo l'ho detto ripassando e mi sono sentita un po' in colpa sinceramente spero che qualcuno ti riprenda in università mentre dici questa cosa e poi ti cancelli da internet eh ma non sarebbe nulla di sbagliare ah dici proprio tagliare solo quel pezzo out of context e magari un video di totta a casa che fa la roba che odio di più di lei in università e poi ritorna esatto proprio questa wow sarebbe traumatico abbastanza ma divertente per gli altri non per me per me non sarebbe particolarmente divertente un'ora di totta termodinamica analisi 2 però gioca league of legend dai luke ti vedo anal 2 termodinamica analisi 2 beh bravo gioca le urf inventati una battuta divertente non lo so non lo so non lo so ho ancora un timer di 24 ore tra l'altro perché ieri charlie mi ha fatto un burn importante io non avevo il comeback allora ho fatto tu dammi il tempo di pensarci dammi 48 ore è roba che puoi dire in live ci pensiamo tutti insieme ma non me lo so che non me la ricordo neanche ora che ci penso e allora che cazzo hai chiesto tempo se neanche te la sei segnata e non lo so perché vabbè devo essere onesto totta non è stato uno delle tue cose il punto è che charlie ora ha anche una sveglia e quindi sicuramente mi scriverà mi fa dimmi e io sarò lei tipo beh fanculo ho la risposta migliore la tua foto il tuo gatto con la coda rotta io no gli si è aggiustata la coda rompigliela di nuovo e poi dirgli la coda rotta lol poi gliela prendi in mano e fai stracche te dai il tuo gatto ha la coda rotta la mao cope 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 allora fammi ringraziare vai scusami ah cazzo è vero scusami è il momento delle sub grazie croc trattino basso o per il secondo mese di prime grazie a daniel bellissimo 10 per il quinto mese di sub ma io stai facendo tanti complimenti o è il suo nome no è il suo nome oh ok grazie che carina oh i maglietti ehi maglietti oggi è andata dal parrucchiere oh dalle un bacino vedi che non ha più vedi che non ha più la barbetta è perché è andata dal parrucchiere no non ha più la barbetta guarda c'è più la barbetta c'è più la barbetta ehi e noi carina grazie morti per la sub donata a beatrice vita grazie alle gamme per il prime grazie andrewsandio01 per il secondo mese di prime wow emozionante bene ora potete fare altre sub cosa ha sentito maya 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 vieni qua maya no non è più non è più entusiasta mettile le cuffie leo si ti prego mettile le cuffie vediamo se impazzisce di brutto ciao maya è maya è la maya andiamo a spasso andiamo a spasso andiamo a spasso è la maya andiamo a spasso andiamo a spasso è la maya ha avuto un attimo che si è spavolato no quando gli hai detto andiamo a spasso ha assolutamente reattato cioè in modo importante proprio in tema con oggi visto che oggi è la serata reaction pu 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 dello spasso oggi è la serata dei cani è la giornata dello spasso wow emozionante maya starà pensando che siete pazzi sì assolutamente comunque volevo dire una cosa che a cui abbiamo pensato oggi noi quando abbiamo fatto riunione è che secondo me è importante condividere con il pubblico che siete bellissimi ragazzi sì ragazzi noi abbiamo un grande interesse nel gruppo discord nel canale di discord nel server di discord perché io ci ho messo tutto il mio cuore per settarlo quindi porca puttana fate punto esclamativo discord e la riunione di oggi è stata per dire questo sì basta esatto è stata anche per dire che abbiamo deciso di organizzare il subday in modo diverso perché noi abbiamo organizzato il subday fino ad ora c'è stato un subday che prevedeva il fatto che ogni settimana un'ora a testa l'avremmo dedicata con i sub su discord solo che questa cosa non ha avuto nessuno ci si è inculati in poche parole nessuno ci ha inculato ma zero raga zero ve ne siete completamente battuti il cazzo ve ne siete completamente battuti il cazzo noi ci siamo rimasti male siamo rimasti molto offesi quindi abbiamo deciso di cambiare il subday e quindi ora vorrei gentilmente un rullo di tamburi ok l'avuto non si sente minimamente quindi farò valere quello di bertra abbiamo deciso di fare il subday con una live speciale da sei ore una volta al mese divisa nel seguente modo due ore a testa di subday nella stessa live ok sarà tutta una live unita di sei ore una volta al mese dove faremo il subday quindi dobbiamo ancora organizzare quando sarà quello di febbraio però questa è l'organizzazione che abbiamo deciso spero che voi siete felici di questa cosa nessuno sta reggendo nessuno gliene frega al cazzo non mi interessa neanche questo allora non facciamo il subday sabbatevi non facciamo più basta non facciamo più niente sabbatevi per il gruppo sub e basta Carlotta Manini Rottini ci hanno fatto molto ridere madonna ho riso tantissimo ho riso veramente veramente tanto è stato un momento molto simpatico grazie ragazzi stai dicendo wow nei quattro giorni o un giorno in più no no un giorno in più un giorno in più il subday è un giorno dedicato alle persone che sono abbonate al canale dove hanno la possibilità di giocare con noi in live anche quindi per sei ore scenderemo tutti quelli tutti quelli che hanno raggiunto con wow e così erano senza sab beh interessante se la fate prima del 20 febbraio poi da quel giorno sono in spagna in erasmus ok segnavi sul calendario ragazzi prima del 20 febbraio da fare che poi se ne va perché poi si non si possono fare questa cosa meravigliosa idea geniale grazie mille grazie mille ragazzi grazie mille ho apprezzato molto questo vostro interesse detto questo tot ha detto che le farà su fall guys no 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 su stumble guys perché lo preferisco molto di più esatto esatto sì sì ok ok ha senso ha senso sì sì è molto meglio oggettivamente ah guarda ce lo dicono anche in inglese mamma mia però non l'ho capito tot ha messo così paura che sono entrata su discord bro grazie grazie bro ma su bday solo per i subito non ho punto capito eh non lo so è qualcuno allora ma sub bday solo per i subito sub day no 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 ma sub bday solo per i subito non ho punto capito la lontra raga è sparita non c'è più no no è morta è scappata i sub day si chiamano sub day di base perché perché durano 24 ore come una giornata intera esatto non per altro facciamo un sub day in cui in realtà tutti si aspettano scusate ho trovato un coltello con degli occhi nel mio cassetto comunque dicevo in cui tutti si aspettano il sub day con i videogiochi ma in realtà andiamo a fare sub subacqua e tutti quanti mi piace il subacqua beh ci starebbe ci starebbe sarebbe interessante cosa mi potrò rompere se l'ultima volta abbiamo deciso di fare una year da qualche parte non fosse il nostro studio ci viene tipo un ebbolo sono tornata ti dirò ti dirò un live year che nonostante tutti sia rotta non siamo neanche riusciti a far partire sì infatti proprio vabbè non ricordiamoci di quella triste giornata triste giornata è stata molto divertente era meglio se stavo a casa aspettare il pacco posso dire la parte più divertente di quella giornata quando io ero in ospedale e Bertra mi ha detto i soldi che gli dovevo rimandare indietro mi ha fatto troppo ridere perché ovviamente gli avrei dovuto ridare i soldi però il fatto che io ero in ospedale con un braccio rotto mi è arrivato un messaggio magari sono i miei amici che mi chiedono come sto no Bertra mi devi rimandare 43 euro ok va bene però te li ho rimandati subito a proposito tu non me li hai mai ridati sicuro? oh droppata a tu non mi hai mai detto quanto ti dovevo dell'auto per il resto non ti dovevo nient'altro il tuo schipasto me lo sono pagato io le cose le lo leggo anche ah no vero ti devo solo la roba dell'auto ma non mi hai mai detto quanto ti devo? allora no aspetta non lo so vabbè dopo riguarderò ciao ok non volevo tirar fuori tutte queste informazioni tutti questi dissing però sapete cosa mi è venuto in mente? io non lavoro più con te ecco che potrebbe essere una cosa simpatica si vede che non c'era l'assicurazione sul tuo schipas ecco ragazzi fate l'assicurazione quando andate a sciare cioè se voi non vi fate l'assicurazione vi fate una cagata come quella che ho fatto io che raga vi giuro mi hanno messo una stecca di legno e mi hanno fasciato e basta non hanno fatto nient'altro io ho scelto quando ho 4 anni non mi sono mai fatto niente però fate l'assicurazione per quella cosa raga io ho dovuto pagare avrei dovuto pagare 200 euro per una merdata imbarazzante se non avessi avuto l'assicurazione un momento assai gaming sì un momento assai triste comunque per ragazzi per i nostri amici della finanza il bonifico che ho fatto a Berta scritto giornata neve di 15.000 euro è assolutamente legit abbiamo speso tantissimo abbiamo speso tantissimo perché ma 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 intendi giornata neve o vacanze Sardegna da 30.000 no vacanze Sardegna era di prima ah ok 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 no perché a noi ci piace divertire durante le vacanze quindi facciamo sempre queste vacanze Sardegna dove spegniamo tantissimo perché alla fine i soldi per quello servono per essere spesi non servono per altro e le attrezzature costano esattamente poi in Sardegna devi prendere tutta l'isola quindi insomma mi è appena passata la cosa più inclusiva si dice di sempre mi è appena passata la pubblicità della Lego con tipo la casa con tutti i ragazzi di varie etnie una ragazza sulla sedia a rotelle e una senza un braccio ma è un set Lego bellissimo wow un personaggio rotto io invece lo sai che vorrei cioè no mi sono trovata molto in difficoltà perché questi giorni ho pensato a come chiamare il video quello dove faccio tutte le cose con la mano sinistra no e non riesco a trovare un titolo di un video che non posso offendere qualcuno perché 24 ore senza un braccio non mi sembra un bel titolo wow stavo per farmi bannare in quest'istante non so perché questo istinto copertina di te col gesso così e qua fai tutta quanta come se ci fossero i raggi X con tutte le ossa rotte e il titolo è mi serve una mano wow spettacolare approvo approvo quindi ragazzi se qualcuno ha idee di titoli che non offendano nessuno gentilmente fatemeli sapere perché io oggi ho avuto molta difficoltà imparo a fare cose come distorpi wow speedrun any percentage nessuno possa speedrun any percentage aiuti statali wow da oggi recepisco la 104 ora vi insegno come beh praticamente sono sicura che ci siano almeno 10 sì ma ci siano un po' di video con questo titolo secondo me palese tipo redio di cittadinanza come averlo se hai anche un lavoro lo metto tra i video a cui reagire oggi ragazzi aggiunta nell'ultimo minuto è importante e vado a riflisco tutorial come rompersi la mano perché io lo faccio benissimo dimmi vabbè ma tanto hanno detto che lo youtuber non è un lavoro no hai ragione quindi di base puoi avere il redio di cittadinanza in realtà io lo sapete che ho saputo che vi sono vi sono all'interno dell'universo creator che percepiscono il redio di cittadinanza non mi sorprende la cosa che cazzo stai dicendo se ho sentito talmente tante su vari creator cose che non mi sorprende la cosa no frati prego questa mi mancava sì sì queste sono state informazioni che ho ricevuto allora io devo dire che ultimamente a livello di gossip ho ricevuto tante informazioni bertra sa bertra ne ha una che l'ha traumatizzata madonna io sono distrutto da questa notizia quella che ci hai raccontato noi facciamo dai basta dire cazzate è vera basta dire cazzate è vera dai per favore basta dire cazzate io quella io quella ce l'ho ce l'ho proprio di traverso io aspetto che si avveri la predizione per poi essere veramente traumatizzata ma quello sarà un momento emozionante io vorrei se ci si potesse giocare le schedine su queste cose sarebbe molto emozionante è vero in Londra tutto quanto in Inghilterra hanno le schedine su queste cose qua ad esempio che vestito indosserà la principessa chi si farà male scommettono su qualsiasi cosa ma scommesse stupidissime anch'io io ora andrò da alcuni miei amici che non sanno questo gossip e chi farò scommetti che cosa che non posso dire mi hai dato un'ottima idea e l'altra persona mi farò ma va ma ti pare ma che dici ma si vede che non è così e io faccio ma forse hai ragione però io ho questa sensazione voglio entrare nel mondo youtube italia solo per sentire i gossip raga posso dire è una delle cose migliori è una delle cose migliori i gossip interni sono bellissimi io li amo hanno un po' di gossip questo non è un gossip interno alla fine Anima effettivamente ha fatto la riposizione infatti avevo visto questo si senti io ha messo la storia c'ha tutti i buchetti allora io per un attimo devo dire che sono stata convinta che Anima si fosse fatto il brasilian butt lift ma sono stata convinta un botto perché praticamente Anima aveva messo qualche giorno fa o l'hyptrin si avvicina ragazzi il momento di so barbi grazie da dedifa grazie mille aveva fatto la la storia dove c'era tipo ancora non aveva messo queste ultime però aveva messo la foto della sua schiena ok con tutti i disegni e aveva taggato sotto la clinica allora io ho visto quei disegni e ho detto chissà vediamo la clinica apro l'instagram della clinica il secondo post della clinica era il post sul brasilian butt lift con gli stessi disegni e io ero tipo bro no vabbè che ridere e quindi niente ma è vero quel gossip in cui Lion si è fidanzato con top aspetta spiega cos'è il brasilian butt lift allora il brasilian butt lift ti tolgono la ciccia da altre parti del corpo e te la innestano nel culo così ti viene un culotto bello sodo esatto è tipo quello che hanno fatto le Kardashian per farvi capire o tipo Nicki Minaj sta gente col giga culone che non penso sia anima anche se mi farebbe molto ridere ora l'idea di anima che va a Dubai con il giga culone alla Nicki Minaj grazie Mortiez per la sub donata oh hai fatto partire l'hype train Mortiez grazie mille io oggi per un attimo tolto i capezzoli ha fatto l'operazione che dicevo grazie Paolo perché Leo? per me i capezzoli maschili sono inutili secondo me secondo me natura dovrebbero seccarsi e cadere ah ok io invece ho questa questa necessità interna di cioè mi voglio troppo togliere il come si la l'appendice ah ho questa perché sono stata traumatizzata da alcune cose in particolare dalla storia di un mio amico che mi ha raccontato come ha scoperto di avere l'appendicite ok e del fatto che stava praticamente Leo ok lupiti lupiti questa è la mia appendicite wow molto carina effettivamente pesietto la cicatrice qua è molto bella madonna comunque ora la fanno molto meno ora ti fanno solo i due due la mia me l'ha fatta un macellaio la mia me l'ha fatta un cazzo di macellaio altro che grazie Paolo io ho scoperto che cazzo l'appendicite può essere veramente pericoloso cioè ci puoi morire se vai in peritonite puoi stirare malamente la mia è così grande in realtà non perché era l'appendicite ma la mia era peritonite che mi era esplosa tutto quanto alle tre di notte e io quando ho fatto per andare con mia madre abbiamo preso l'auto per andare in ospedale però questo è il motivo per cui me la voglio togliere cazzo c'era il mio vicino di casa che aveva parcheggiato il suo furgone perché lui arrivava la sera tardi ripartiva la mattina presto davanti all'entrata all'uscita di casa e quindi non potevamo passare con l'automobile e abbiamo dovuto chiamare l'ambulanza perché lui non rispondeva a citofono non rispondeva niente l'ambulanza è arrivata letteralmente a cinque metri dopo quell'auto e poi da lì siamo andati in ospedale madonna santa poi avete inculato con la sabbia il vostro vicino sì assolutamente e beh te lo dico ok e no questo è il motivo per cui sono assolutamente traumatica cioè traumatizzata un mio amico gli è venuta cioè prima la sera prima di andare a dormire anzi no era giorno e aveva male la pancia però pensava che non fosse l'appendicite no perché ci sta che non è la prima cosa a cui penso io in realtà è la prima cosa a cui penso ogni volta con il mal di pacioccio l'appendicite e poi faccio oddio e poi faccio oddio è a destra o sinistra non mi ricordo mai e vado sempre in panico e poi mi ricordo madonna una volta qualcuno mi ha detto questa cosa che non so se è vera o meno che però a volte il nostro corpo specchia il dolore che se ti fa male una parte in realtà tu senti il dolore da un'altra parte strano sì ma me l'hanno detto in realtà me l'hanno detto in realtà legato ai denti solo che me l'hanno detto legato ai denti solo che io ho automaticamente espanso queste ideologie per tutto il resto del corpo umano e quindi ogni volta la notizia presa da tiktok tipo no 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 da tiktok ce l'ho all'interno della mia testa da fin troppo tempo e quindi vabbè ogni volta vivo questo momento di trauma però appunto questo mio amico aveva mal di pancio anche il giorno però si era preso tipo una roba contro il dolore tipo vabbè e poi è andato a dormire no però nel mentre lui aveva avuto no 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 si è svegliato e quando si è svegliato stava soffrendo così tanto che non riusciva a parlare praticamente e allora non riusciva a chiamare aiuto ok cioè stava in casa con la famiglia in casa ok però non riusciva ad avvertire la famiglia che stava soffrendo come un cane e hanno fatto un ora di gioco dei mimi no no peggio peggio aveva il telefono sulla scrivania che era davanti al letto però doveva arrivarci alla scrivania e quindi fa per alzarsi dal letto però aveva un dolore tremendo che nello stesso momento in cui si alza dal letto raga sviene e vomita dal dolore e in tutto questo la famiglia non se ne era accorta perché pensavano stesse dormendo e quindi lui quando si è risvegliato dopo essere svenuto e aver vomitato ha chiamato aiuto e poi da lì l'hanno portato in ospedale e gli hanno detto che stava tanto così da morire perché gli stava per scoppiare l'appendice e bro quando mi hanno raccontato questa cosa io ero tipo ma scherzi cioè ma stai scherzando io sono traumatizzata da questa cosa ha una gestione del dolore il tuo amico abbastanza dubbia perché? non lo so non riuscirà a fare proprio nulla in che senso? non so urlare il nostro corpo è abbastanza guidato per urlare quando ha male eh però oddio guarda che quando soffri tanto quando soffri tanto tanto no ragazzi perché ti si strozza in tantissimi modi diversi ti posso assicurare che ho sempre trovato il volume adesso ti sblocco una nuova sempre no no basta mi prego io quando ho fatto la peritonite di solito è un'operazione piccolina così ti dura niente e il giorno dopo sei a casa io sento che la peritonite hanno dovuto farmi l'anestesia totale neanche locale l'anestesia totale mi ha fatto allergia sei allergico all'anestesia bro a un determinato farmaco che c'è in alcune anestesie greve e quindi io ho passato le due settimane successive e no una settimana in ospedale e una settimana a casa a continuare a vomitare e ogni tipo tre secondi avevo tipo le vaschette vicino che continuavo a buttare su bile e così per due settimane cioè io ho inteso ogni tipo trenta secondi vomitavo notevole allora questo non mi traumatizza particolarmente perché insomma ci ho vissuto quasi un anno così quindi cioè io anche ora ho ancora il trauma grazie a mano per i 141 bittini io ho ancora il trauma cioè io dormo ancora con il mio cestino del vomito questa è una cosa non so se la chat lo sa però io ho un cestino del vomito a fianco al letto il cestino del vomito che non lo uso da tantissimo in realtà cioè da da quasi un anno no quasi un anno no però da tipo 8 mesi buoni sì non lo uso eppure eppure il mio trauma interno mi fa che se io non ho quel cazzo di cestino a fianco al letto io non riesco a dormire mi sento male è il tuo rosacchiotto di pezza no poi c'è pure Giulio 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 ha tipo un buchetto sulla schiena per no in caso di emergenza Giulio ha anche un altro buchetto però non è Giulio ne ha vissute tanto perché poi esce se no se ne ha due ah è vero mazzo oh no oh no che brutta cosa questa cazzo cioè ci sarebbe un modo per non farlo uscire e bloccare il tutto eh beh sì ok basta non voglio più proseguire questo discorso per favore mi sento a disagio in questo momento comunque sì io sono allora allora io sono traumatizzata dall'idea di stare male e non rendermi conto di star male tantissimo cioè perché allora io ho questa teoria che da quando sono stata male il mio livello di sopportazione del dolore è salito tantissimo cioè nel senso sono convinta allora di io ora sei potentissima bro ti giuro tantissimo e ti rompi un polso e ti fai due piste esatto esatto tipo a quei livelli no ti posso assicurare che secondo me cioè secondo me sulle robe dello stomaco tantissimo cioè sei tipo immortale quello sì però su altre cose no non lo so ti abitui a un certo tipo di dolore non ti puoi abituare a tutti non lo so però ma sicuro sulle robe dello stomaco raga o in generale dolori della pancia tutto il gas tutto il tratto castoro vabbè insomma e sicuro quello stai cercando di masterare il dolore del corpo finché ogni singola parte sarà insensibile se vuoi ti prendo a pugni in testa finché non senti più niente spero di no però io ho un sacco paura che magari mi viene un dolore e faccio no vabbè dai scialla sono abituata cioè che tipo una cosa del giorno e lo sottovaluto un bot e questa è la mia cosa l'idea di sottovalutare qualcosa che in realtà è più grave di quello che penso dai sono dovute arrivare medici in elicotteri in montagna e pompieri perché un mio amico è ipocondrico e per accendere un fuoco ha soffiato troppo gli ha girato la testa si è spaventato ha chiamato qualsiasi cosa mancava il KGB quanto avete pagato quanto avete speso sì porca puttana l'altro giorno Ilaria aveva lotite lotite ok ecco differenze di sopportazione del dolore mi ha fatto chiamare la guardia medica perché aveva lotite beh lotite ok sì ok bro manco da andare in ospedale nel senso cioè ok tutto però io una volta ho avuto un'infezione all'orecchio che mi ha fatto andare in ospedale invece ti ha intero ti ha portato l'infezione e ti ha proprio detto adesso io ti ando all'ospedale mi ha preso in piedi e mi ha portato no ma perché la seconda notte in cui dormivo per 25 secondi e poi mi svegliavo per il dolore ho detto forse non è un'idea brillante questa io il mio momento ospedaliero più bello sentito proprio sanità italiana che gli ho detto interessante è stato quando una volta ero steso a letto tranquillo mi alzo lo sveglio ok passano quei 5 minuti mi risveglio e faccio wow ma non ero già svegliato che cazzo è successo mi ritiro su svengo però risveniva sempre a letto almeno sì sì che bello alla terza volta faccio interessante perché sto svenendo ero da solo a casa mi giro la testa di colpo mi viene da vomitare sbocco l'anima faccio ma che cazzo rigiro la testa per mettermi dritto mi riviene da vomitare stavolta però l'ho tenuta lì allora pianissimo mi giro verso il telefono con molto piano e noto che piano piano non mi succede niente allora pianissimo mi alzo arrivo a essere dritto prendo il telefono c'era mia madre che era a farla spero e faccio mamma che c'è sto svenendo a casa riesci a tornare a casa torna mia mamma io nel mente avevo notato che se tipo facevo un movimento veloce mi girava la testa mi venivano svenimenti o da vomitare oppure se facevo le cose pianissimo non mi succedeva niente cerco i sintomi su internet se ciao 10 tumori stai per morire ora praticamente erano abbastanza specifici tutto quanto quindi scopro che era una specie di labirintite ah si la labirintite ah è vero ok in pratica dovuta a il nel liquido che c'è l'equilibrio è gestito da una specie di liquido nelle orecchie ve la faccio molto semplice e a volte però si possono formare dei piccoli calcarini che vengono dissolti e spariscono i miei si erano formati sulle pareti della dell'orecchio quindi quando si muoveva il liquido per ristabilizzare la cosa non si muoveva bene perché questi sassolini diciamo lo bloccavano quindi ogni volta che io mi muovevo pian piano non mi succedeva niente ah avevi tipo il voar momento nella tua testa però se mi muovevo troppo velocemente svenivo vomitavo greve io tipo mi alzavo così andavo in giro per casa cioè proprio era movimenti basi tutto quanto per te lei o npc allora siamo l'ospedale per chiedere cosa devo fare la visita tutto quanto e mi dicono ah che la visita dallo torino per questa cosa qua la prima disponibile è tra un mese bello e l'ho fatto quindi io adesso devo fare un mese in cui se mi giro vado a 0-2-3 e loro mi fanno eh si non è una cosa così grave la visita tra un mese cioè io sono svenuto due volte tutto quanto alla fine ho dovuto pagare un medico ho pagato 200 euro mi pare per la visita privata il giorno dopo che come cioè per curarmi mi ha preso la sberle io ho avuto il medico che ad esempio mi metteva la mano qua e poi mi faceva pam e mi dava la sberla secca poi mi prendeva la testa e mi faceva adesso aspetta che vai sul lettino spam batteva la testa sul lettino così perché in pratica ti deve staccare i sassolini dalle pareti dell'orecchio è l'unico modo per farlo però non c'è tipo un cotton fioc molto lungo non lo so che cazzo no e io ho pagato 200 euro per farmi picchiare da un medico che ha passato tutto il tempo a farmi fare ok adesso ti butto sul lettino pronto potresti stare male pam ok adesso ti butto sul lettino non ti preoccupare adesso sul sito stavo benissimo benissimo cioè è stato tipo i 5 minuti peggiori perché cioè capito che se io muovevo la testa velocemente vomitavo e lui mi lo faceva fare di botto però ho pagato 200 euro per farmi picchiare dal medico è stato molto è bella come storia effettivamente però almeno sei stato sei sopravvissuto poi sì sì adesso infatti ho detto se mi risuccede so come fare prendi a testa di muro esatto Leo che invece aveva un altro problema Leo che invece se gli succede in realtà non è quello è un altro problema e si sta solo creando altre cose farebbe particolarmente ridere come situazione però wow sì sanità emozionante cioè pensa che in America quella cosa l'avresti pagata circa 1200 euro se ti andava bene se ti andava bene se andava bene infatti ehm citofono arrivo subito due secondi oh oh no e ora che succede eh citofono comunque stavo pensando una cosa carina e simpatica pure sì 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 che secondo me potrebbe essere interessante momento cacca per Leo ormai sono traumatizzati dall'ultima volta madonna si alza e sviene stavo pensando e potrebbe essere carino non farvi studiare per il mio esame di domani però farvi fare cioè tipo Leo Bertra tu in una vita parallela ok se avessi deciso di fare l'università sì quale università avresti fatto ma io non ho ancora detto che non la faccia prima o poi è sempre lì ok va bene ora mi puoi rispondere alla mia cazzo di domanda allora dipende in modo realistico una cosa che potrei effettivamente fare allora in realtà una cosa che ti piace cioè che vorresti che ti interesserebbe studiare che vorresti fare nel tuo lavoro mi interesserebbe studiare onestamente vicini ci sono vicini sì sì erano dei vicini uno che mi chiedeva le cose perché c'è il cane che abbaia se dava fastidio tutto quanto e vado no no easy tranquillo ti divertirei stasera quando sarò in live fino alle 11 a urlare no no ma è perché tipo l'altro giorno sono stati a casa via tanto quindi il cane ha abbaia tutto il giorno mi ha chiesto se era un problema gli faccio guarda io tre quarti del tempo sono al pc con le cuffie e se dormo nulla mi sveglia quindi faccio non è un problema il cane che abbaia la mia donna è una donna quindi la sua opinione non conta grazie mille ciao vicino è clara è al lavoro durante il giorno dicevi bertra allora o qualcosa di abbastanza tra come tipo scienze motorie scienze motorie sì ok cos'è l'argomento nuovo ah sì sì stavo chiedendo in una vita parallela o nel caso di bertra in un futuro che non si sa mai che sembra che lo insulto si dico in una vita parallela che università vorreste fare quella che aveva fatto bertra che aveva lasciato cos'è che era quella che aveva fatto leo che aveva lasciato me la consiglieresti tu bertra hai fatto l'università e l'hai lasciata bertra ha fatto l'università che io ho iniziato ho lasciato perché era inutile bertra mi fa com'è questa università è inutile bertra non farla bertra ci si scrive fa sei mesi e la lascia in quanto inutile sei mesi ma scusa veramente si non l'ho vista cosa no non sapevo cioè sapevo di leo ma non sapevo bertra che cazzo c'entri con informatica musicale scusa ma che cazzo non c'entri né con informatica né con musicale parliamoci chiaramente io ho iniziato a fare quello solo perché mia madre era dead band sul fatto che io facessi un'università ah ok 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 vabbè quindi tu quindi era per comprare tu mi faccio l'università più stupida che trovo si letteralmente beh minchia informatica musicale non mi sembra troppo stupida stupitissima una facoltà di merda è un po' inutile come la merda raga non fatevi trullare non fatelo è veramente zero ok vabbè allora bertra quindi tu avresti fatto o quello o veterinario minchia ma sono due cose così diverse oh e sono due cose che mi piacciono gli animaletti e le armi ok scienze motorie o veterinario tu leo tolta a quanto pare ingegneria musicale allora fai che togliendo che non ho fatto mai youtube così ho deciso di di startare un'università si di startare un'università vabbè la la challenge except ci avevo al posto di come si dice informatica musica tutto quello che avevo fatto mi sarebbe sempre piaciuto fare anche tantissimo infermieristica infermieristica quindi probabilmente avrei fatto quella ok ok comprensibile allora l'idea che avevo la croce rossa tutto quanto ah è vero effettivamente tu con la croce rossa ok allora io avrei un'idea per voi vi andrebbe di provare a fare il test di ingresso per le vostre rispettive università non penso che abbia un test di ingresso scienze motorie eh sì quasi tutte le università hanno un test di ingresso va bene io sì volentieri sarebbe molto carino sì non lo passerò mai posso chiedere a Clara le risposte dell'altra stessa no non puoi hai fatto croce rossa dovresti sapere qualcosa allora io giusto per mettermi in mezzo anche dirò l'università che avrei voluto fare ma che poi non ho fatto no perché non l'hai fatto perché l'università che avrei voluto fare all'inizio del liceo ah ok che era la Bocconi però non c'era la Bocconi era era no come facoltà non come come università la facoltà sarebbe stata quella di giurisprudenza ma sai che stavo per dirlo hai questa tendenza a rompere il cazzo che ti fa bro ti giuro tutti nella mia vita me l'hanno detto ma in modo anironic è vero è vero no 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 ma lo so lo so lo so che però in casi come questi potrebbe essere una cosa molto a mio favore però poi non sono stata molto ti sta dando della rompicazzi però tu con la tua laurea in giurisprudenza puoi denunciarlo esatto esatto per diffamazione wow ok allora ora cerco i vari test ingresso c'è il test posso cambiare col test no no ormai hai detto i pokemon anche dentro che conosco no test ingresso infermieristica simulazione non la sapevi dei pokemon di cosa in uno dei test per la polizia tipo un anno o due fa in notizie generali sai che ci sono anche un po' cultura generale chiedevano cosa erano i pokemon bellissimo ma che cazzo quindi Bertha tu preferresti fare veterinaria o l'altra fammi provare cosa poi pure provarle entrambe nel senso ci abbiamo un'ora prima provo scienze motoriche che è più facile penso dopo vogliamo proprio sverdarci del tutto fare medicina no cerchiamo l'esame che adesso non c'è più di quinta elementare vediamo se lo passiamo bro io l'ho fatto l'esame di quinta elementare come ho detto l'hai fatto per passare per passare dalla scuola americana alla scuola italiana ho dovuto fare l'esame di quinta elementare perché tu l'esame di quinta elementare dici è una cagata però ci sono tutte quelle robe tipo geografia parlami dei vulcani dimmi termini giusti che tipo tu fai no bro che altro secolo è la roba matematica io matematica faccio troppo cagare io pure quelle delle elementare non ce la farevi giuro vabbè dai matematica elementare arriva alle divisioni sì infatti dai sono sicuro che tu possa farcela continuiamo a dire cose che io non so fare ragazzi allora test d'ingresso io avevo detto giurisprudenza giurisprudenza dopo questa questa totta che dice non so fare le divisioni moltiplicazioni il fatto che lei tiene i conti sì no ragazzi c'è un motivo se lo faccio con le equazioni apposite di google sheets adesso totta che riesce a capire che le equazioni tipo di google sheets può traslarle pian piano alla matematica tipo si apre tipo il mondo tutto quanto diventa iper mega ok se io cambio questo oggetto con un numero funziona uguale no ma raga voi dovete capire che io allora secondo le mie predisposizioni io sono molto più portata per la logica che per la matematica che non dovrebbe essere logico come ragionamento perché in teoria dicono che logica e matematica vanno a braccetto nel mio cervello sono assolutamente due cose completamente diverse e infatti i modi in cui io riesco a fare le cose matematiche sono assolutamente senza senso cioè proprio senza se voi foste nella mia testa mentre io faccio delle somme e moltiplicazioni qualsiasi cosa vi sconvolgereste di come funziona il mio cervello perché è troppo veramente strano comunque comunque scuola che leggeva un sacco di gente un sacco di gente che diceva io li ho fatti anche tipo marghe che fa nel 2009 hanno tolto gli esami di quinte elementari in tempo per farmelo fare però c'è inteso noi in Trentino l'hanno tolto nel 2005 quando io ho fatto le cioè quando io ho fatto le quinte elementari sono stati la prima classe che non ha fatto gli esami quindi probabilmente è per la provincia autonoma da noi che l'hanno tolto prima allora chi vuole iniziare? vai vado io ok test di scienze motorie la versione demo il simulatore si basa sulle seguenti materie logica cultura generale cultura matematico scientifico cultura sportiva ok vai stupiscimi no che palle ok procederò a farlo ancora non hai capito scena che palle no sì sì ma non mi interessa se si vedeva la mail in realtà era più il fatto che volevo provare a mettere una mail a caso eh te lo mandano lì mi sa ti mandano ad accedere eh infatti ti è stato inviato alla mail un link per accedere 10 minutes mail momento 10 minutes mail gmail ma creati la mail no ormai clicca sul seguente link fanculo ok ora ti arriveranno tutte le belle mail e di sesso ok ok ci siete vai ok accedi alla simulazione perfetto tariff aere nella tabella sono riportate le tasse le quote assicurative wow enorme quella tabella e dei voli per ok scusami e le tariffe dei voli per Barcellona da diversi aeroporti italiani il costo totale di un biglietto è la somma delle tasse aeroportuali della quota assicurativa e della tariffa vera e propria se la compagnia che esercita all'aeroporto di Genova attuando una proporzione decide di offrire gratuitamente la quota assicurativa e di ridurre un terzo le tasse aeroportuali quale sarà il totale delle spese per due passeggeri che acquistano un biglietto ciascuno di solo andata da Genova mi serve un foglio no Bertra Bertra è Genova è quello che costa di meno sono andata da Genova eh sì eh devo allora non c'è la quota assicurativa e riduce le tasse vabbè è un conto di merda fammi vedere la tabella scusa che non vedo madonna è più piccolo di così allora tasse aeroportuali a un terzo quindi 5 niente quota assicurativa 59 64 128 128 euro ma questo è veramente una roba che c'è in un test d'ingresso e perché nessuno vuole solo andare a Napoli ma vuole anche tornare a casa ma perché esiste questa ma Bertra aspetta ancora hai sbagliato infatti meno 58 eh Bertra è ancora solo due ore torna lì torna lì scusa no aprimi aprimi il coso Bertra non possiamo stare così per ogni domanda no no non mi interessa c'è il fatto di aver sbagliato tasse aeroportuali a un terzo 5 la quota assicurativa di 250 non c'è solo andata 59 fa 64 64 per 2 dalle mie parti fa 128 non è sbagliato è giusto per foggia non c'è una non è un'opinione no no è giusto vai vai andiamo avanti ma non è giusto è meno 58 quant'era prima scusa 0 ah se sbagli ti toccano addirittura punti no lascia 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 128 sono fermamente convinto che sia 128 non può essere altro quanti sono i numeri di 4 cifre che si possono scrivere usando solamente 3 le 3 cifre 5 6 e 7 oh oh tosta questo è uno di quei ragioni eh in realtà è una di quelli che c'è la formulina e basta Bertra è solo andata era solo andata ragazzi ragazzi scriveteli tutti in chat così Bertra li conta grazie per favore sai che non so il ragionamento che c'è da fare allora c'era una roba è tipo 5 più 6 più 6 5 per 6 per 6 questo non ho idea spara a casa allora no in realtà puoi scegliere perché ti vengono tolti dei punti se sbagli quindi puoi scegliere se lasciarla in bianco ah si può si c'è un ragionamento matematico che non ricordo cioè te lo insegnano sicuramente alle superiori ma lascia in bianco per ora è tipo 4 elevato alla no c'è un qualcosa si boh mi piace come nessuno ha scritto un numero a 4 cifre forse forse è il fattoriale no non è un fattoriale cazzo dico grazie pentolone che almeno tu non l'hai detto non lo so è un calcolo combinatorio vabbè si raga vai successiva quindi preferisci non farla si si preferisco non dirla perché non mi fido proprio bella domanda 11 21 41 161 ah 81 si abbastanza abbastanza basica in base alle informazioni riportate vedi che vedi che sale un po' il punteggio secondo me parte da un punteggio negativo e va in su in base alle informazioni riportate qual è stato il fatturato in Europa nel 2005 aprimi il coso che non si vede piccolissimo circa 60 miliardi un po' esagerato 60 miliardi poi guarda il tempo si no infatti così poco no no nel 2005 grazie maf per il ride se x più y uguale a 9 x uguale 2z più 14 z uguale wow difficilissimo però mi serve un foglio di carta aprirò paint che voi non vedrete ma mi serve ci fidiamo di te tranquillo Bertra aspetta ci abbassano mentre così x più y non ero uguale a non lo sapremo mai Bertra mi sa anche a me guarda come ti fa sprecare guarda che non succedono queste cose ai veri test si è un sistemino di merda x più y uguale a 9 x uguale a 2z più 14 madonna non facevo un sistema da 250 anni z più y è uguale a 0 direi che vorrei provare a farlo anch'io ma non z z è uguale a meno y questo ce lo togliamo dal cazzo così per saperlo x è uguale a no sì x in realtà è vabbè posso direttamente toglierlo quindi è meno 2y più 14 o 19 non so scrivere posso consigliarti la cosa inversa per 3 no 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 non suggerimenti non fare suggerimenti non darmi suggerimenti io ci metto 6 ore ma sono contento in realtà io ci metto così ok 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 nessuno ti suggerirà quando dovrai fare per l'infermiere pensa se poi c'è di qualcuno e ti hanno suggerito y meno y più 9 quindi questo diventa meno y più 9 è uguale a meno 2y più 14 quindi io lo porto di qua quindi diventa y è uguale a 14 meno 9 fine quindi è uguale y è uguale a 5 ok più 5 era più facile del previsto ok quello che ti dicevo io era prendili mettili sulle y e vedi se funzionano quei 5 numeretti cioè se y non è meno 4 sì 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 è vero ho senso anche quello ho senso anche quello ma io volevo risolverlo come mi ha insegnato la mamma ok adesso ti faccio vedere quanto in fretta leggo lo devo leggere ad alta voce no vero no vabbè ci metto mezz'ora più caldo ok però mutaci e io lo leggo ad alta voce per la chat mentre tu e poi ci dici quando hai finito leggere il brano e rispondere al quesito solo in base alle informazioni contenute esplicitamente o implicitamente nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento passare in soli 5 anni dall'essere un oggetto quasi misterioso a diventare una malattia di cui si conosce con precisione la causa molecolare per cui si avvicini a mettere a punto una terapia risolutiva è successo con la leucemia cellule capellute o tricoleucemia capellute capellute una rara forma di leucemia cronica che colpisce i linfociti B e che deve il suo nome alle estroflessioni simili a capelli presenti sulla superficie delle cellule tumorali greve questa cosa mi hanno detto dei miei amici che studiamo medicina è gravissima tra il 2010 e il 2011 siamo riusciti a capire che era sufficiente una specifica mutazione del genere braff a causare la malattia spiega Enrico Tiacci ematologo e professore all'università di Perugia autore di questa scoperta insieme a Brunangelo Falini il direttore dell'istituto di ematologia a Perugia era un'ottima notizia non soltanto perché finalmente si comprendeva da cosa origine la malattia ma anche perché abbiamo capito che la leucemia a cellule capellute è una patologia geneticamente semplice e quindi più facile da colpire finito che ancora è il primo firmatario hai la soluzione? non ho ancora letto le risposte allora mutati ciao che ancora è il primo firmatario di un articolo che sulle pagine del Journal of Clinic Oncology ripercorre i passi di questa ricerca che è stata in gran parte sostenuta dall'ARIC la mutazione identificata dai ricercatori è già nota per essere legata all'insorgenza del melanoma e contro di essa è stato sviluppato un farmaco il Vemura il gruppo decide così di sperimentarlo in 26 pazienti con leucemia a cellule capellute che non rispondevano più alle terapie convenzionali la tricolocemia risponde bella alla chemioterapia ma in circa la metà dei pazienti tende a recidivare più volte e la chemioterapia perde progressivamente di efficacia dimmi il numero di centrali nucleari ah no il numero di centrali di histogramma ha mostrato il numero di centrali nucleari presenti in diversi paesi nel 1980 e nel 2000 quante centrali nucleari sono state costruite in Giappone dal 1980 al 2000? troppe ah capito perché io sono sei un pazzo furibondo wow non si legge nulla 5, 18, 41, 82 1980 è quella rubina sì grigina giusto? grigio chiaro è 1980 2000 è grigio scuro ah è il quante sono ok da 78 è 78 vero sì sono passati a 105 quindi fa 7 27 centrali nucleari hanno fatto molto bravi il capitano Kurt ha ricevuto dai servizi segreti una mappa incompleta dei settori del sistema solare infestati dai venusiani ma che cazzo? ma è Star Trek? ciascun settore è indicato da un quadratino in cui è imposto un numero oppure una V la V indica che il settore è infestato dai venusiani mentre il numero posto in un settore indica il numero di settori confinanti tra gli otto possibili che sono infestati dai venusiani il capitano Kurt ha intenzione di completare la mappa e stabilire quanti sono i settori infestati dai venusiani alla fine del suo lavoro quanti settori infestati dai venusiani potrà contare il capitano Kurt? no questo è cazzo di Prato Fiorito raga è Prato Fiorito bro io non avrei cioè io neanche ho capito la traccia sinceramente ok ho capito è Prato Fiorito è letteralmente solo Prato Fiorito infatti non ho mai imparato a giocare allora devo fare un disegnino allora questo è uno quindi tigre scrive ok facciamo il test di veterinaria questo devi starci veramente un botto a ragionare perché è proprio solo quello al mio test universitario che feci per entrare a informatica musicale mi ricordo che avevo mutato tutto il telefono però avevo una sveglia che mi ero dimenticato e quella sveglia aveva la musica dell'inizio della battaglia dei pokemon quindi ti immaginati tutto il test tutto in silenzio inizia il mio telefono a fare e io ho preso la batteria del telefono l'ho buttata per terra e mi sono tornato a fare il test wow qui ce n'è uno qui ce n'è uno qui ce n'è uno per forza lì ce n'è uno qui ce n'è uno quindi qua non c'è qua c'è per forza poi quindi qua non c'è qua non c'è Poi abbiamo un Buco Buco 5 e 6 Buco buco Poi abbiamo una V Oh no raga questo è veramente noioso e basta Allora se c'è una cosa che io ho imparato Durante tutte le simulazioni Tutte le cose per studiare i test ingresso E' che nessuna domanda del test ingresso Ti dovrebbe prendere troppo tempo Ma questa non prende troppo tempo Devo solo contare E' questa la cosa tediosa E' solo molto molto noiosa 1 e 2 1 e 2 Ok quindi è V Ciao gamer facciamo un test X e X quindi sono 1 2 3 4 5 5 in più 5 No aspetta 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 Ah no in tutto 5 6 7 8 8 No Porca puttana Fermi tutti 9 Ok E' a trabocchino E' a trabocchino E' a trabocchino E' a trabocchino Perché la biologia è differente Che palle Cazzo di wall of text Ti sei mutato? Sì ci hai mutato Ok Perché la biologia è differente Nonostante i sensazionali sviluppi di cui si è resa protagonista Come la genetica La teoria dell'evoluzione E la biologia molecolare La biologia ha continuato a essere trattata Nella stregua di un mero derivato Delle scienze fisiche Ben pochi filosofi hanno capito che tanto la meccanica Quanto tutte le discipline scientifiche Post Galilele Aiane LOL Possedevano due tipi di caratteristiche Si tratta nel primo caso Di caratteristiche condivise da tutte le discipline scientifiche autentiche Tra cui l'organizzazione e la sistematizzazione delle conoscenze Sulla base di principi esplicativi Gli altri attributi rappresentano caratteristiche Che risultano specifiche di un particolare settore scientifico O gruppo di discipline scientifiche Nel caso della meccanica Tra gli attributi salienti Potremmo includere il ruolo rilevante della matematica Il fatto che le sue teorie si basino sulle logiche naturali Una tendenza assai più marcata di quella che si rinviene Nella biologia al determinismo Al ragionamento tipologico e al riduzionismo Nessuna di queste caratteristiche specifiche della meccanica Però svolge un ruolo di primo piano in biologia Quando si tratta di formulare una teoria Quando iniziò a svilupparsi la filosofia della scienza Gli specialisti del campo Dietero apparentemente per scontato Che tutti i tipi di scienza fossero equivalenti Quanto al contenuto filosofico Questo è il motivo per cui Galileo, Kant E di fatto la stragrande maggioranza I filosofi della scienza Hanno applicato alla biologia Senza modificazione alcuna Una filosofia che era stata splasmata sulla meccanica Anzi, la stessa procedura è stata usata per tutte le scienze Antropologia, psicologia, sociologia E altre ancora Invece, bisognerebbe analizzare accuratamente ogni disciplina Per riuscire a determinare Se i suoi principi di base E le sue componenti Siano adeguatamente coperti Dalle spiegazioni della meccanica E in senso lato da quelle della fisica Wow Pensano veramente che quelli di scienze motorie Neanche sono in grado di comprendere un testo Ah oh, che fai? Ah, scusami, è vero Ah oh Totta, totta ti sta entrando il testo Ti sento pazzo Dubbia, mi sa, la B B? Sì, è abbastanza Ambigua, però metterò B Il valore di un'automobile diminuisce del 20% ogni anno Dopo tre anni, qual è il valore dell'automobile in percentuale rispetto al valore iniziale? Oh Non so se a trabocchietto o se sono stupido io Quindi farò un conto No, è molto più semplice di quello che pensi No, non è molto più semplice di quanto penso Diminuisce del 20% rispetto al valore iniziale o rispetto al valore di ogni anno? Ogni anno E quindi è un troiaio in realtà Perché scusa, se prima vale 10 vale 8 Se poi vale 8 vale Qual è il 20% di 8? Ah 20 Eh no, scusa Ah no No, 17,25 17,2 E poi 17,5 Ok, sono sicuro che ci sia una calcolatrice per poter fare questa cosa Cioè ti lasciano una calcolatrice o no? 17,5 Vai giù a Ok A 62,5 Di cui il 20% di 62,5 Eh no, basta Beh Leo, stai zitto Leo, basta Ma poi infatti Vuoi entrare a scienze motorie, Leo? No, non voglio entrare a scienze motorie, lasciami andare a casa Comunque Cipollo scrive Ma io pensavo che il test fosse tipo Questa è una palla da basket da palla a volo Ma come niente calcolatrice, sì Ma come niente calcolatrice Niente calcolatrice del test ingresso Ma che cazzo dite, regà Ma economia ha usato la calcolatrice che non te la fanno usare a scienze motorie Ma infatti Cioè poi questa è una roba Boh Cauticissima No, sì, sì Ma le puoi usare le calcolatrici No, ora non più Ma andate a fare in culo Ma che cazzo dite? No, tutta a me niente calcolatrice Ma che c'entra a scienze motorie? Boh Eh, fa tutto Beh, il valore percentuale, le statistiche Non è statistica neanche Sì, no, dico, ti fanno entrare tutto dentro le cose Ah, sì, sì, vabbè 51, viene 5,12 Quindi appena un po' di più di metà Quindi 51,12 Proviamo Comunque è una merda questa domanda Adesso forse 50 Perché 50? Vai Non è 5,5 No, io lascio quello Supermercato frequentato da Alice e Giorgio Offre un gadget per ogni 30 euro di spesa Sapendo che in totale i gadget offerti sono 24 E che a Giorgio manca il doppio dei... L'ho detto... L'ho letto troppo in gaina senza capire quello che stavo leggendo Sono 24 Giorgio manca il doppio dei gadget rispetto ad Alice per completare la collezione Che Alice ha 4 gadget in più di Giorgio È il momento del sistema È il momento del sistema Comunque era il 40% hanno ragione, sì, sì Perché prima viene tolto il 20 Poi 17,5 Poi 12,5 E va al 40 Ok Eh no, ma scusa Il valore se fosse 40 sarebbe 20% ogni anno dal valore iniziale Ragazzi abbiamo altri due test ingresso da fare Vogliamo fare questo per ogni domanda Te ne mancano letteralmente troppe Infatti non faremo mai tutto il test ingresso Va beh, togli il 40 Non il 60 Ah, ok Vabbè Sapendo dove ero In totale sono Manca il doppio dei gadget Rispetto ad Alice Eh, Alice ha 4 gadget in più di Giorgio 3 Ah Ok, ho capito la logica Il mio cervello in questo momento non sta ragionando Eh, devi fare un sistema Sì, sì, sì È un sistemino di merda Paint a me Aspettate che devo rifare la pagina Blup Blup Allora Io penso che Alice sia una stronza Perché ha 4 gadget più di Giorgio Non può darglieli Cioè, inteso Cioè, io penso che Dovresti scrivere che è giusto Eh, dare tutto quanto a tutti A tutti Che Alice non ha proprietà privata E Che se entrambi avessero Gli stessi giochi Tutto sarebbe molto più bello Mi sembra un'ottima cosa Quella che dici Eh 4 gadget in più Quindi Ah Anche il doppio dei gadget Sto diventando scemo, credo Temo di essere stupido in questo momento Sai, questa è una di quelle cose di logica Che in questo momento Il mio cervello si sta rifiutando Poi tranquillamente schipparla Alice è una ricca borghese Ma è così stupida in realtà Allora, speriamo un numero a caso Se ne ha 16 Alice Per completarlo Gli ne mancano 8 A Giorgio E ne ha 4 in più di Giorgio Quindi Ne avrebbe 12 Giorgio E a Giorgio Ne mancherebbero 12 Quindi non è giusto Perché non è il doppio dei gadget Di Alice Che gli manca No E Se ne ha Ma che cazzo Se ne ha 18 Gli ne mancano 6 Se Gli ne mancano 6 Lui ne ha 14 E gliene mancano 10 Se sono 20 Gli ne mancano 4 A A E' molto stupido 20 E' effettivamente abbastanza stupido Era molto più stupido del previsto Fra Fra Coloro che non leggono Fra bro Fra Coloro che non leggono I più accorti impareranno a parlare intorno E ce l'erano nell'arte inflazionistica del commento Nella pratica restringitiva della scheda Nella caccia della citazione intelligente Sapranno maneggiare lo scalpello dell'analisi lineare E diventeranno esperti nella sapiente navigazione Fra i brani scelti Che conduce sicuramente al diploma di maturità Alla laurea e al personale dottorato Ma non necessariamente all'amore per il libro Solo una di queste affermazioni E rigorosamente dedotta dal testo soprariportato Le citazioni intelligente Non interessano assolutamente mai Chiama la lettura Chi non ama i libri Può benissimo imparare a condurre analisi accorte E compilare eccellenti schede riassuntive Analisi, commenti, schede Sono i nemici più acerrimi L'amore per la lettura Abborrisce ogni forma Orientarsi Direi B È l'unica Comunque mi piace che Dopo la domanda di prima Che era Ci sono 24 giochi Quanti ne ha Alice? Berta dà la risposta 20 La risposta della Sata è Ma quindi Alice li ha tutti Wow bravo Mi voglio bene Bravo ci bollo Ora ci va il sub con quel prime E non ti prendiamo più in giro In bocca al lupo Le dorsi In bocca al culo Oddio che palle Marta Pestarelli Poteva restare a casa A farsi i cazzi suoi Invece di andare a una riunione di famiglia A casa dei nonni Ma quando si è fidanzato ufficialmente Volevano che tutti incontrassero Sui fidanzato Date le circostanze Durante il bucane i parenti di Marta Non hanno fatto altro Che raccontare Anedotti sulla sua infanzia Stronzi Quattro parenti in particolare Il nipote Il nonno Lo zio E il cugino Non necessariamente in quest'ordine Si sono divertiti a tirar fuori Con grandi divertimenti di tutti La storia Oh mio dio È una di quelle cose È una di quelle I rocognomi Simonetti Pestarelli Robbiati e Bonetti Si stanno inoltre che Oh mio dio Io odio queste cose Io divento pazzo Io divento pazzo Scusatemi Io divento pazzo Io divento stupido Ve lo dico Sto diventando stupido Oh mio dio Cioè Marco Giovanni Alberto Stefano E Gaedano Nipote Nipote Nonno Zio Cugino E poi abbiamo I cognomi Che sono Puoi dirlo con un accento un po' più del sud Italia? Simonetti Di pestarelli Robbiati e Bonetti Poi sappiamo Alberto Non è Robbiati Ah no Sono andato Infine Marco Il cui cognome Non è Simonetti Quindi M No S Ha raccontato Il sesto compleanno Di Ah cazzo è vero Ci sono anche I fottute Le fottute cose C'è recita C'è Festa Sei anni Festa Sei C'è Canto E c'è L'ultima cos'era? Vacanza Vacanza Comparente Ma con canto intendiamo la regione vero? Sì Assolutamente Dove c'erano i pokémons Marco Che non è Simonetti È il nipote di Marta Che non è Simonetti Neanche lei è È il nipote quindi Ma Marta è morta o c'è ancora Marta? No è viva è viva Il cognome di Giovanni non è pestarelli No pestarelli Ma è stato lui a raccontare Devo cambiare i colori Sennò divento pazzo A raccontare Stai colorcodando i tuoi appunti Madonna Sto colorcodando i miei appunti Vedi l'unica cosa che ti distingue Dal fare i fogli di Google colorati È il fatto che non hai fatto l'università Bro Mi è stato lui a raccontare l'episodio Avvenuto a Natale Quindi lui va Al canto Quindi lui è accanto Ok Quindi Gino Ha fatto questo Poi Il set stanno ancora discutendo Di Alice dei Gadget È molto più facile Del previsto ragazzi Molto più facile Era veramente stupido A pensarci dopo È questo quello che ti dico Con nessuna domanda Ti dovrebbe prendere Tutto questo tempo Eh no Tipo quella della Della percentuale C'era un modo più semplice di farlo Conta che in mezz'ora Avresti dovuto fare 20 domande Tu sei a 13 12 Boy ad un can Come caso l'è possibile Alberto Il cui cognome non è Robbiati Quindi No Rob Ha raccontato Tutte le persone che si chiamano Rob Ora eliminate dalla live Ha raccontato Del compleanno Quindi la festa dei sei anni Ma non è Non è lo zio Non è lo zio Giusto? Non è suo zio No Bertra sta entrando nel void ragazzi Marta era in classe con suo cugino Che è Che ecco Qualcuno Quindi è stato lui a raccontare L'episodio della recita scolastica Io mi chiamo Giovanni Se volete vi dico il cognome Così si sistema tutto Il cugino Ha raccontato La recita Bertra troppo tempo Troppo tempo Stai perdendo È tantissimo Lo so ma non mi importa Spara spara Ormai Ormai lo voglio fare Stai zitto Leo Signor Simonetti Che non è il nonno di Marta Per Simonetti Di Bonetti Che era il fratello di Alice e Alberto Devi stare zitto Devi stare Io ti caccio Cacciato Leo Vaffanculo Che non è Ha raccontato Il cugino della zia di Simonetti Ti odio Io ti muto Leo Io ti muto Io ti muto Non è il nonno di Marta Ha raccontato Orco 2 ha fatto un danno Ha raccontato Vado a farmi il caffè Ci vediamo Sì tranquilla Dopo Ha raccontato Del Natale In cui Aveva 8 anni Quindi è il canto Io non metto su Un altro schermo Mi metto chat GPT Vedo se ci mette meno tempo Probabile Sì Probabilissimo Sì Il canto è Natale Quindi Lui ha raccontato Del canto Ma È già la seconda persona Che parla del canto Perché Il cognome di Giovanni Non è Pestarelli Io ti odio Ti odio Ok ho capito Ho capito Sono un babbo di minchia Sono un cretinazzo Infame Lui è Simonetti Quindi A è Simonetti A è Simonetti Ok Quindi A Simonetti Il signor Che non è il nonno Di Marta Quindi non è Ho perso il mouse Ok Non è nello zio Nel nonno Quindi Ok Abbiamo due x qua Stefano Bonetti No Sei stronzo Che mi dici adesso Come si chiama Pezzi di culo Che non siete altro Bastava andare avanti Questo è fatto per questo Per i cretini come me Che fanno gli schemi Ciao Leo Ciao scusate Ho risposto al telefono Spero di non aver disturbato nulla Non ha raccontato L'episodio in vacanza Quindi No vacanza Giovanni Non ha revocato No vabbè Bellissimo Mi ha risposto Chats GPT Ed è giusto Scusate Sono stupido In quanto tempo Chats GPT Riuscirebbe a finire L'esame Di scienze motorie Prima di me Sicuramente Ah il parente Il cui cognome È robbiati Bro Per tra 5 minuti Che sei su questa C'è anche una live Lascia stare Vaffa in pù Butta la cazzo Aspetta Ho delle informazioni Quindi posso fare qualcosa Lo zio non è sicuramente Alberto Il nipote Si chiama Marco Quindi robbiati Robbiati Non lo sappiamo Ho deciso Che Basta Ho deciso Che è lo zio E ha raccontato La festa È lo zio E si chiama Alessandro C'è? Alberto No È il nipote E si chiama Giovanni No È lo zio Si chiama Marta E si chiama Marco No È lo zio E si chiama Giovanni Neanche È il nipote E si chiama Marco Sì È il nipote E si chiama Marco Basta Vai Di Di Totta Di È il nipote E si chiama Marco È sbagliato Non me ne frega Non me ne frega un cazzo Cosa che era Secondo chat GPT Sentiamo Aspetta un attimo Che mi sta affinando Allora Mi ha detto subito Che è il nipote Ok Vi spesso di qua la cosa Il punto è che Il nipote si chiama Marco È scritto letteralmente Nel testo In che senso Torna sulla domanda Scusami Il parente il cui cognome È Robbiati È Marco Ed è lo zio Sì No è lo zio No scusami Non è Allora Sta zitto Bertra Allora Mi fai un attimo sulla domanda In base alle informazioni fornite Si sa che il parente Totta Bro ti sto leggendo Quello che mi ha risposto Chat GPT Basta Ok Hai ragione Contro un'intelligenza artificiale Cioè Che cazzo ti devo dire In base alle informazioni fornite Si sa che il parente Il cui cognome è Robbiati Non è il nonno Non è il nipote Non è lo zio Non è il cugino Poiché non ci sono altre Relazioni familiari Menzionate Si può dedurre Il parente il cui cognome è Robbiati Sì è lo zio Scusa Torna un secondo alla domanda Quindi il nipote È lo zio E si chiama Rovagnati Quella è l'altra risposta Che gli ho chiesto Si chiama Rovagnati Quindi è Dov'era? Lo zio si chiama Giovanni Ok Potrebbe Vai Vediamo Eh Ah 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 Qua 49 Sì D Il confronto fra due melodie Non ha consentito Di dimostrare l'impossibilità Che il musicista Pino Abbia corrompiato La canzone del musicista Ugo Pino insegno Ha copiato le musiche A Ugo Foscolo Non ha consentito Di dimostrare Il limo Tigre chiede Ma posso fare anche veterinaria dopo? Sì sì Abbiamo un'ora tanto Ce la facciamo Non ha dimostrato B Il confronto fra due melodie Non ha dimostrato Che non abbia copiato Come si presenta il purgatorio Nella comedia di Dante? Ok questa dovrebbe essere Un'alta montagna A Ok Questa era un po' più veloce Dai Due numeri simbolo Il tre E L'uno No adesso è tutto Dante No è sbagliata Era sbagliata Mi ha riabbassato i punti Che cazzo era? Tre sette Sono un cretino Sette 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 Era il sette Non l'uno Sono un babbone Un minchione Un babbone Sono un babbo di minchia Berta puoi superarla No no Non lo azzecco Tanto gentile Tanto onesta pare Se non sbaglio Vado? Vai Era sbagliata Si opera Nella comedia di Dante Chi pronuncia le seguenti parole? Francesca O è Paolo No è Paolo No è Paolo Lei Lei Era Paolo o Chiara? Paolo è Chiara Cos'era lussuriosi? Era Francesca Si erano i lussuriosi La corte di Federico II di Svea Fu culla di un'importante Scuola letteraria Barocca No Quando si diffuse Cos'era siciliana Che cazzo se lo ricorda? L'umanesimo Cioè ma roba del genere Come possono? Eh ma perché Se hai appena finito Le superiori L'hai fatto l'anno scorso Perché devi studiare Per i test d'ingresso Cioè Si ma anche roba del genere Cioè intendo Ma oggettivamente L'umanesimo Fra perché Le domande di cultura generale Ci stanno in tutte le università Eh si si Io per le domande di cultura generale Non complico così Che andava dalla scoperta Dell'America A domande di arte A di Cioè era cose che non c'entra Niente gli uni con gli altri Proprio 1400 Da prima Ok Scusate sono uno scemo Era giusto Imperi centrali Germania Austria-Ungheria La C credo Non so se ci ficcano anche il resto No è giusto infatti Garibaldi Gabiraldi Corretto La simonia per la chiesa Boh Io spero sia l'essere seguace Dell'apostolo Simone Eh anch'io lo spererei Però Boh Metti la A La compravendita secondo me Secondo me non è la C Perché sennò sarebbe con la S maiuscola Non era quella Chi fu il grande avversario per lì Con Franceschi Crispi Esporrente di punta del liberalismo Era la compravendita Avevo ragione Assoluto De Pretis Vai Mi sta simpatico De Pretis No Cosa si intende per dover giuridico? Dico C Ok Con l'espressione semplificazione amministrativa Si vuole indicare il processo di cambiamento Delle procedure della pubblica amministrazione Teso Teso Eh A A A Corretto Senatore vita Come si chiama il sito? Ennentai Gravissimo questo Questo è proprio sparare nel vuoto Z Sono nominato Penso C Provaci Vai Ma domanda Perché non c'era la risposta Sì Quante ne so Sono fortissimo Cosa si intende per bilancio dei pagamenti? Skip Ok Skip Il diritto Il ditto ho letto Il ditto è È il mio trauma Il complesso delle norme regolanti I rapporti sociali Fatti Cosa collega il canale di Suez? La nave di Come cazzo si chiamava quella che l'ha bloccato? Sì è vero che ridere La nave di una randomica ONG Ma sai che qua Oceano Atlantico e Pacifico Credo No Porca troia Sono un cane Dove si trova la residenza ufficiale Il presidente della Repubblica francese? Ever Given Si chiamava la nave Mar Rosso e Mar Mediterraneo Wow sono un animale Centro e Pompidou Mi sta simpatico Comunque dicono dalla chat Giustamente è un grande consiglio Meglio che non la metti Se spara a caso Perché ti togli i punti Ah mi piace sparare a caso Quale regione dell'Italia Non confina Gossati esteri Il Veneto No fermo Ah ci hanno messo anche l'Emilia Romagna L'Emilia Romagna Non penso confini Emilia Romagna giusto Giusto Il Veneto con cosa confina? Austria o Slovenia Da qualche parte Ah là è vero è vero Quante sono le province della Sardegna? 5 Ho deciso che sono 5 Nuoro, Olbia Cagliari Non erano 5 Quali di questi stati Non è una repubblica? La Svezia Facile Su quali mari si affarcia la Germania? Mare del nord Mare baltico Mare del Mare del nord Mare, mare, mare Mare del nord Penso nord E Norvegia No, no, no Norvegia è sotto La Svezia è sopra Sì, metteci dai Io ci credo No, non dovevo crederci Quanti cantoni Hanno fatto la confederazione Elvedica? Sì 4 Comprensibile Certo, non spararla È molto meglio Sì Non era 4 Era 5 Quanti sono i cantoni? Lago di Garda appartiene al Trentino Alto Adige? Leo, non dirlo Sono zitto Sono zitto Eh, vabbè Marghe Sì, sì Sì, anche se solo la parte settentrionale Avevo ragione C'abbiamo la prontà Quali tra i seguenti paesi era un tempo denominata Persia? Non lo so, chiedi al principe? L'Iraq O l'Ira... No, l'Iraq Mi hai detto Iran Eh, non era Era forse Iran Dove nasce la Dora Baltea? Sul Porco boia Io vengo da lì Dovrei saperlo Forse sul buon viso, sai? Vengo dalla luna Vediamo se ho ragione O se mio nonno dalla tomba mi ucciderà Da tomba Era il Monte Bianco Allora Quale città leggiamo il quotidiano il mattino? Milano Se non è di Milano Non so perché me l'hanno propinato per anni Ma da dove viene il mattino? No, io ce l'avevo a Milano Ma figli di puttana Vabbè Pechino No, Shanghai Io sto andando a cazzo di cane, raga No, era giusto Capitale della Slovacchia Napoli 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 Vabbè, effettivamente sì Non ci sono mai andato poi Eh no, infatti ho detto Lo so forse solo perché ci sono andato Schippalo per ora Le isole Egadi sono in Bellissime Schippalo Culonia I Monti I Monti Marta Tossito Schippalo 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 anche questo Quale dei seguenti laghi non appartiene alla Svizzera? Il Mar Caspio L'Oceano Atlantico L'Ario L'Ario Metti l'Ario Così un po' perché ne sto schippando troppo Era giusto Quale delle seguenti linee convenzionali più lunghe? Il mio cazzo Scusate Equatore Per forza di cose Credo Sì, sì Per forza di cose Quale mare bagna il Golfo di Biscaglia? Che cazzo ne so Il Mar Mediterraneo Ah no, forse il Tirreno Boh, metti il Mar Mediterraneo Che cazzo me ne fotte a me Golfo di Bisceglia? Mi sa chi era l'altro In condizioni di scarsa illuminazione Pur riuscendo a vedere Non sono in grado di distinguere i colori perché Oh sì Coni e Bastoncelli Il momento gaming Oh cazzo Ce ne sono due Ma non so quale dei due Tra quale sei indeciso? Eh, hai Perché È una di quelle due Però non so quale sia Allora, i coni No, la Vai via Vai via Secondo me Era Dai Quale delle seguenti affermazioni Relative alle evitazioni del genoma mitocondriale È corretta? Eh È una cosa brutta The mitocondria Is the powerhouse of the cell The mitocondria Is the powerhouse Ok, schippa Ok Violentemente I legami a idrogeno Sono interazioni Interazioni Deboli che si instaurano Oh mio dio Chimica no Chimica no Ah Ah Quanto l'ho odiata No No, schippa Togli questa merda dagli occhi Mai più Tra le seguenti caratteristiche Sono attribuibili ai mitocondri Io vi odio tutti Ai microondri La powerhouse of the cell Powerhouse of the cell Sede De replicazioni molecole Di DNA Sede di sintesi Sede di trasporto Presente in cellule autotrofe Bertra mi sa che sceglierà veterinaria Quali sono le caratteristiche dei microondri? Dipende Sono della Samsung Skip Poi tutte queste farò un ripassone finale In cui le sparerò a cazzo di cane Indicare fra i seguenti incroci Quello che permette di stabilire Se i due geni sono tra loro associati Pinscher e Bassotto Bertra Facciamo un video in cui andiamo ai test Li proviamo veramente Solo per dare fastidio alla gente vicino a noi Vai lì e suggerisce le risposte sbagliate A quello vicino Vai lì tutto preparato Dici no vabbè Ma io sei un bot per questo Metti il B Metti il B Sì 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 Io mi fido del B No Il glicoceno Glicogeno Glicogeno È formato da Magari il glicogeno Che ne sai? Probabilmente è glicogeno E non glicogeno Però mi piaceva dire glicogeno Direi che è glucosio e fruttosio Via Perché sono un po' pazzo No Secondo del regolo di Shargaf Relativo ai raccordi Prego Trovassi e azionate Io vi odio tutti Te la schifo Bertra Grazie Prego Il Cardias C Così No Termino opposto di abduzione È adduzione Aspetta sta per arrivare in positivo Tra le seguenti proprietà Una sola non è comune A tutti gli esseri viventi Quale? B Io ci credo No Il materiale ereditario Di un organismo È composto da Ricordati Bertra L'hai visto Il corpo umano No Mi sa di no Sai Ok Sì era giusto Quale le seguenti affermazioni Sui tivoli È falsa Che cazzo Ne so Vado avanti Vai avanti Vai avanti Un alcol Si trasforma In un lichene Per Alchene Lo so Mi piaceva leggere Lichene Direi Secondo me Deve compensare Quindi è una compensazione No aspetta Addizione Sì No Ha lasciato la temperatura Una pressione Di 0 2 atmosfere Volume uguale Di 2 gas Diverse Sì Qual è quella Di matematica Che l'hanno lasciato Indietro Quella Dei numeri Quelle cifre Vai Quella Quella delle cifre Aspetta Fagli la foto Fagli la foto Ok 2 Ah questa Era quella Roba Di merda Cazzo Questa è chimica Basissima Ma non me la ricordo Vabbè Schifchiamo Sì Poi vedo Simbolo chimico Del magnesio Cos'è la distillazione È un processo Di separazione Basato Basato Basatissimo Super basato Credo Sì eraci L'aggiunta di glucosio È una soluzione Di Naci Cloruro di sodio Cloruro di sodio Ci aggiunge Il glucosio Che cazzo Ne so Di cosa succede Porca Di una puttana Perché la schifo No Ok Diminuisce il pH Lo rende basato Non era quello Un ricercatore Serva il microscopio Che un batterio A è lungo 9 divisioni E che il batterio B sopravanza A del 10% Di se stesso Quanto è lungo B? Eh? Quindi B è più lungo Del 10% Di A 81 dovrebbe essere La mia La 2 Beh anche qua C'è un 81 comunque Quindi mi fa ridere Posso contare Berta Per vedere se è giusta? Eh basta che vedi Alla fine Ok Effettivamente sì Quindi è il 10% Di 9 in più Quindi è 0.9 in più Quindi è 10 È 9.9 No 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 È del 10% In più Di se stesso Sì Eh Che cazzo vuol dire? Quindi di B A B è Il 10% Ah quindi è 10 Wow Sì Sono un cretino Insiste Sono andando in panna Ormai li sto speedrunnando Tornata alla matematica No Leo scusami Abbiamo fatto Tu mi hai detto Tipo 15 minuti fa Se è la domanda 13 Sei in ritardo Sono 67 Le sto facendo A cazzo di cane Correndo ormai Sono impazzito File nuovo Allora Sistema di equazioni Di tua madre Fa le raspe Y Meno 2 Uguale 4 Meno 2x X Più Y Madonna Non sanno mettere le parentesi Non sanno mettere le parentesi Fratto 2 Uguale 3 Ok Quindi Fammi semplificare al volo 2x Più y È uguale a 6 Quindi E cos'è che devo capire? Ah ho una sola soluzione Ok Allora fammela semplificare ancora 6 Meno 2x Quindi 6 Meno 2x A me piace essere positiva E pensare che abbia infinite soluzioni Meno 2x Ora in realtà Non è nessuna E per te sta qua a calcolare tantissimo No è abbastanza È abbastanza È abbastanza rotta Oh è rotta Non ha soluzioni O sono molto stupido di colpo O non ha soluzioni Era giusto Sì Ok Mi ha aumentato o diminuito i punti ragazzi? Penso che te le abbia diminuite E forse meno 10 Chat me le ha aumentate o no? Il luogo dei punti equidistanti da 2 punti A e B Cos'è? No sono stupido Ok bella raga Il luogo dei punti equidistanti da Eh? Scusami sono perso Violentemente a essere stupido Il luogo dei punti equidistanti da 2 punti A e B è Qui Nel nostro cuore Dove importa veramente Stavo ancora pensando al calcolo che ho sbagliato come un bonobo Il luogo dei punti equidistanti Ah L'asse del segmento A e B L'asse? L'asse? L'asse Sì L'area di un cerchio vale No io vi odio tutti Schippo No 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 col cazzo 300 metri quadri Vabbè 300 Indicare delle misure Dà con approssimazione il raggio di tale cerchio Quindi l'area di un cerchio è Pi greco R alla seconda È uguale all'area Quindi Io devo fare Sì comunque bisogna avere la calcolatrice per l'amor di Dio Cos'è che devi sapere il raggio? Eh sì è Pi Cioè devo Devo fare 300 fratto pi greco Scusami vuoi per caso una canzone che ti ricordi i numeri del pi greco? Non so se Sì lo so che è 3,14 Quindi è circa È circa Allora diventa Diviso 3 diventa 100 Quindi circa 10 Se ho sbaglio qua mi ammazzo Ok grazie Gettando due dagli a sei faccio No le probabilità No 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 brutte 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 Due dagli a sei faccio Si ottiene un punteggio variabile dal 2 al 12 E va bene Quali delle seguenti coppie di numeri è formata da due punteggi con stessa probabilità? Eh? Inteso esce il 3 Quante cose posso avere il 3? L'1 o il 2? Ah oh Quindi sono tipo il 3 e ti so hai Sì sì Quindi in realtà sono due possibili Ah due punteggi Scusa no Ho frainteso anch'io la domanda comunque Quindi 3 può essere È 3 e 4 Perché Ah no 3 può essere una sola cosa 1 e 2 4 può essere 2 e 2 E 1 e 2 1 e 3 Ok 7 e 8 7 può essere 6 e 1 4 e 2 Oh mio dio 4 e 2 3 e 4 No 6 e 1 5 e 2 Ok sono 3 possibilità 4 e 4 5 e 3 6 e 2 7 e 1 Sono 4 Non mi vede a dire nessuno 5 e 7 Sì D no DC DC Anche secondo me E invece no Ok andiamo avanti Una leva No torna indietro scusa FP è una resistenza FR Applicate perpernicolarmente All'asta rigida Che costituisce la leva Detto BP Il braccio relativo alla potenza E BDR Il braccio relativo alla resistenza FP sta per quelli Che ci sono sotto il porticato Di Teramo Non dire mai più niente S sotto il porticato Wow Sì schippa Perché non mi ricordo Come funzionano le leve Onestamente Vorrei dire che lo so Ma Nel periodo Tra i periodi di rivoluzione I due satelli Che percorrono Orbiti circolari Con raggi rispettivamente Di R R diviso 4 È Bellissimo Come la persona Che sta facendo questo test Io mi l'hai risposto Un sacco di bellissimi A questo test Cioè Chi Avrebbe dovuto Correggerlo Sarebbe stato un sacco Felice Cioè Bellissimo come te Oh Pocciato Lo corre con i computer 16 Vai 16 I computer possono essere bellissimi Mi stai dicendo Prima che devo trattare bene Il robottino No Era 16 Probabilmente era 4 Per coppia di forze Si intende Vai le ultime Bertra Eh ma poi devo fare Quelle che ho lasciato L'insieme di due forze Si avventi lo stesso verso E la stessa intensità Insieme di No no c'è una regola In questo test Ingrasso Non puoi tornare indietro Si che si può Bo C I believe in C Ho believato male Lo zero assoluto È Meno 273 Kelvin Questo era facile Eh Scusa Scusa Non lo è Scusa Ma Mi ha tolto dei punti Zero assoluto Kelvin Meno 273 Ah no È in positivo Boia Ah Lo zero Eh sì È meno 200 gradi Centigradi Centigradi È zero Kelvin È zero Kelvin Meno 273 centigradi Sì sì 200 centimetri cubi Di acqua Hanno una massa Praticamente Uguale a Oddio Ah Com'è che era Un Un litro D'acqua È un chilo E un litro È Un decimetro Quindi è Dieci C'm Era un decimetro Un litro d'acqua Sì è un decimetro cubo Oh Laura Donorem dopo questa Se qualche docente Di scienze motorie È qua Laura Donorem Essendo però cubico Sono mille Centimetri cubi Quindi A me mi piace che Hanno scritto Uno Venti chili Uno Due chili Uno Duecento grammi La chat sa Quindi Se mille Centimetri cubi Sono Aiuto Boh Butta a cazzo Di cane Quale? 20 chili No Era due chili Allora Non importa Vu Morgan Hai riso per il mio Totta? Eh? Hai riso per il mio? Io commento No non l'ho sentita L'ho scritto in chat Aspetta un secondo Ah sì sì L'ho riso per il tuo Cos'hai scritto? Voglio vedere No Bertra per favore Finisci questo cazzo di esame Porca puttana Poi te lo dico Ti giuro Ho fatto ridere Anzi te lo leggo C Metti la C Leo ha scritto L'ho letto L'ho letto Era C Il Batman non si gioca Con le racchette Ma quello stupido di Bertra Ma bannate Mi ha tolto il moderatore Codo Coglione La lunghezza massima Del campo da rugby È 82 metri No La transizione È uno schema offensivo Non è vero Non è vero Noi non siamo fuori Di quest'idea Che nasce Un'azione di contropiede Tipico Della palla canessa L'azione di contropiede Nella palla volo Fa molto ridere Boh Metti Palla canestro Davvero Penso sia sbagliato Ma non importa Totta Totta Scusa Bertra Devo Devo Recuperare i tuoi errori Cosa stai facendo Totta Non lo so Poi per un salto Si su bene Bertra Questa domanda Allora Non importa Io risponderò Comunque quella A caso Totta Aspetta Oh amore Cioè Non è che mi sembra Di averlo detto in greco Che hai detto Qual è quella giusta? Metti la C Eh la D La D Così in amicizia Anche se è sbagliata Oh oh Sei quasi positivo Il libero è un gioco Il libero è un gioco Il libero è un gioco della palla a volo Può murare E Non è vero Ok Basta Termina Termina Bravo Beh dai Un 50% Quindi non saprà mai Se la mia era giusta Ah fai rivedi simulazione Magari ce lo dice Dammi da lui Io avevo detto 81 Ok questo era giusto Bravo Era giusto 30 miliardi Ma Scusa Perché Ma non funziona così Questo grafico Scusami Penso di si Berta Sono test No ok Ma dico Ma Ok Ok Va bene Ok Sì perché devi fare l'inizio Sì devi togliere Vabbè La fine del coso La fine Ah Questo è sbagliato Pst Ok Questo era 8 Perché Ma Ne ho contato uno di troppo Sì Ne avrò contato uno di troppo Questo era 49 No questo era Questo era Io ho detto 49 Pertà ha detto 49 Era 45 Perché Scusami scusami Era 45 Ah ok Perché 45 scusa Meno 5 Meno 7 Meno 9 Eh Ha senso Sì vabbè È il 3 Il 10 Non il 7 Fai il 18 Cos'è Vabbè Sì Ok Ci sta Corretto Ok Ok Questa era totalmente sparata Va bene Anche questa Anche questa Sì Ok Ok Va bene Ok Sì Va bene Iran Era l'Iran Ok Era il Montebianco Era Napole L'Atlantico Sì Ok Ok La membra Era l'orifizio Orifizio Ci metto il pipo Nel cardis Ok Sembra il mio primo test di medicina Eh vabbè ci sta È scritto da dottor Franzo Non ha soluzione Sì Ah ne aveva gli infiniti Molto felice di questa cosa Ah perché Sotto positiva Sotto uguale a 0 Era infinito Sono un babbo Non era infinito Nessuna Vabbè Era 5 e 9 Ok Eh 8 Sì Questa l'ho sparata a caso Questa l'ho sparata a caso Ho letto il rapporto Tra i piedini di transizione 0 assoluto Era 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 200 grammi Guarda sono un babbo 100 metri Non sapevo Ah totta scusa Qual era la Torna verso tipo la 15 16 No 16 No di meno 13 Vuoi guarda il cerchio Ha C'ha GPT di merda Godo Godopoli estremo Per essere superiore Alla Intelligenza artificiale Non avrò passato Ma almeno C'ha GPT Ha sbagliato E io ho azzeccato Questa roba matta Un'ora e dieci Per fare il test Sbaglia L'unica domanda Sullo sport Wow Un vero Mento gaming Ehm Boh a questo punto Voglio fare le reazioni Leo Vuoi Provare la tua Guarda Peccio che mi sparo In un testicolo Piuttosto Ok comprensibile Non è così terribile Contando che non tocco Nulla di studio Da 2023 2016 Sei anni Forse la cosa più terribile Questa Bert Vabbè cosa devo studiare Per fare il testicolo